Buongiorno, siamo qui a Via Inferno, i lavori sono iniziati da questa mattina per il rifacimento del manto stradale, come in tante strade di Monte di Procida e come ho capito anche via Corso Caribaldi. Sì, nell'ambito dei lavori comunali oggi stiamo lavorando qua a Via Inferno, dopodiché rifaremo il manto stradale di via San Martino, via Cappella Prima Traversa e poi continueremo anche con Corso Caribaldi. Probabilmente dalla prossima settimana si lavorerà sul tratto di strada non ancora fatto e quindi rifaremo il manto stradale di tutto Corso Caribaldi. Quindi i lavori proseguono con quasi tutte le strade cittadine di Monte di Procida? Sì, noi anche quest'anno nel bilancio abbiamo messo una somma sia per sistemare i parcheggi sia per sistemare tutte le strade, pertanto continueremo con la sistemazione e la manutenzione di tutte le strade del comune di Monte di Procida. Aggiorneremo man mano dei lavori con l'assessore Capuano, lo seguiremo giorno per giorno sulle strade di Monte di Procida.